Benvenuti nel mondo degli orologi Rebellion. Rebellion è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2008. Il marchio si è rapidamente fatto un nome nel settore grazie alla sua filosofia che unisce il design innovativo, la tecnologia all'avanguardia e la maestria artigianale, ottenendo importanti riconoscimenti nel mondo dell'orologeria di alta gamma. Rebellion è noto per la sua produzione di orologi da corsa ispirati al mondo dell'automobilismo, in particolare alle competizioni di endurance. I suoi orologi sono realizzati con materiali di alta qualità, come il titanio e la fibra di carbonio, e presentano numerose funzionalità specifiche per i piloti, come il cronografo e il contatore dei giri del motore. Il marchio produce anche orologi da polso di lusso più classici, ma tutti i suoi modelli presentano un design innovativo e unico nel loro genere. Rebellion è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, come il sistema di trasmissione dei dati wireless, che consente di monitorare le prestazioni dell'orologio in tempo reale, e il sistema di autenticazione basato sulla blockchain, che garantisce l'autenticità dei suoi orologi. Rebellion è nato dalla passione per l'automobilismo dei suoi fondatori. Il marchio ha scelto di ispirarsi al mondo delle competizioni di endurance, come la 24 ore di Le Mans, per creare orologi da corsa di alta qualità, che rispondono alle esigenze dei piloti professionisti e degli appassionati di motori. Rebellion si distingue per il suo design innovativo. I suoi orologi presentano un'estetica unica nel loro genere, ispirata al mondo delle corse automobilistiche, ma al tempo stesso elegante e raffinata. Rebellion è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni dei suoi orologi. Il marchio ha sviluppato un sistema di trasmissione dei dati wireless, che consente di monitorare le prestazioni dell'orologio in tempo reale, e un sistema di autenticazione basato sulla blockchain, che garantisce l'autenticità dei suoi orologi. Rebellion utilizza solo materiali di alta qualità per la produzione dei suoi orologi. I suoi modelli sono realizzati con materiali come titanio e fibra di carbonio, che garantiscono leggerezza e resistenza. Tra i modelli più famosi di Rebellion ci sono il Predator, il WIP-1 e il T-1000. Il Predator è un orologio da corsa ispirato al mondo delle competizioni di endurance, dotato di numerose funzionalità specifiche per i piloti. Il WIP-1 è un orologio da polso di lusso con un design innovativo e futuristico, realizzato con materiali di alta qualità. Il T-1000 è un orologio da corsa di alta gamma, dotato di un movimento meccanico a carica manuale che garantisce una precisione assoluta.